Sono 365 nuovi casi di covid accertati in Abruzzo nel giorno dell'Epifania. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4172 test per un tasso di positività di quasi il 9%. I 365 nuovi positivi sono persone d'età compresa tra 1 e 94 anni. 73 di queste sono residenti in provincia dell'Aquila, 165 in quella di Chieti, 47 nel Pescarese e 72 nel Terramano. 8 invece sono coloro che provengono da fuori regione o per cui sono ancora in corso verifiche per accertarne la provenienza. Nelle ultime 24 ore inoltre 2 deceduti e 125 guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 11.331 positivi accertati più 237 rispetto a ieri, sottraendo al totale il numero dei deceduti e dei guariti. 463 pazienti, meno 8 rispetto a ieri, sono ora ricoverati in area medica. E 39 sono invece in terapia intensiva. Mentre gli altri 10.829 positivi sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla sanità.